Questa enorme diffusione del virus legata a una inversione audi, una strategia assurda di lockdown assoluto, poi però liberi tutti, può evidenziare l'insorgenza di nuove varianti. Questo è quello che inquieta. Dobbiamo immaginare con buon senso strategie europee per difenderci dall'insorgenza di nuove varianti. Serve dare, secondo il virologo Fabrizio Pregliasco, che non si dimostra preoccupato dai nuovi numeri del contagio, pur annotando i 706 morti censiti nell'ultima settimana, un segnale di attenzione per il futuro. In primis il richiamo vaccinale per i soggetti fragili, in modo da convivere per il futuro con questa presenza ingombrante, fastidiosa, che volevamo buttarci un po' alle spalle. Il richiamo per i più fragili e gli ultra sessantenni resta un'arma valida contro la diffusione del virus e l'ospedalizzazione. I dati delle terapie intensive non sono in aumento, mentre potrebbero essere stimate le positività per una tendenza ancora diffusa a non certificare il contagio. Dal punto di vista scientifico conferma l'importanza del richiamo alla vaccinazione per anziani e fragili. Da questa dipenderà l'impatto che il covid avrà ancora sugli ospedali. Richiamo che oggi è consigliato nei 180 giorni, ma che potrebbe in un futuro prossimo essere allungato e portato al pari del vaccino anti-influenzale che viene fatto ogni anno. Temo che nell'arco dei prossimi anni dovremo vedere momenti di salita e di discesa, salvo l'insorgenza di varianti particolarmente cattive, diffusive, cosa possibile, ma teorica ad oggi, ma appunto da tenere in conto, queste onde dovrebbero andare a ridursi nel tempo, però non nell'immediato, come le onde di un sasso in uno stagno. Grazie a tutti.